E' stato presentato ieri lunedì 11 dicembre presso la sala consigliare Monsignor Luisi Babbo Natale in moto, un evento intriso di emozione e solidarietà organizzato dai Compatti, gruppo di motociclisti nato nel 2021. L'evento, patrocinato dall'amministrazione comunale di La Mezzia Terme, avrà il suo avvio domenica 17 dicembre alle ore 15 da Piazza Italia di Sant'Eufemia, il punto di ritrovo per tutti i partecipanti. Il percorso delle moto di Babbo Natale attraverserà le vie di Sant'Eufemia e San Biase, dirigendosi verso il nosocomio Lamettino per una speciale donazione alla pediatria del Giovanni Paolo II. Saranno consegnati un otoscopio, due stetoscopi pediatrici e pacchetti regalo contenenti giochi e dulciumi per i piccoli pazienti. Dopo aver salutato i piccoli pazienti di pediatria del Giovanni Paolo II, le moto vestite passeggeranno per le vie principali di Nicastro. A fine corsa la carovana si fermerà in Piazza San Domenico. Qui, in collaborazione con le associazioni Lucky Friend e Girasole, vi sarà una vera e propria festa di doni. Oltre 150 pacchetti regalo contenenti caramelle e piccoli doni per tutti i bambini che parteciperanno all'evento. L'intrattenimento sarà garantito dalla presenza di due mascotte coordinate da Tatameri, che si occuperà dunque del divertimento dei bambini. Non mancherà un Babbo Natale in moto pronto a scattare foto con i piccoli e adulti. Questo è il nostro secondo evento, dichiara Gaetano Candurro, fondatore dei Compatti, organizzato nel giro di un anno e mezzo di attività. In soli 18 mesi di attività, dopo l'incredibile successo nel radunare ben 350 moto lungo il suggestivo lungomare di Falerna, siamo emozionati nel dedicare quest'intera giornata ai bambini e alla solidarietà. Questa manifestazione mira a rafforzare l'impegno e l'entusiasmo dei Compatti nel dedicarsi a progetti importanti come questa lodevole causa. I Compatti sono orgogliosi di portare allegria in città ed in particolare ai bambini che in questo periodo natalizio lottano contro la malattia e l'isolamento. Questa manifestazione non è solo un evento, ma un simbolo tangibile del nostro impegno incrollabile verso progetti significativi come questo, in cui la solidarietà e la gioia del Natale abbracciano i cuori bisognosi di sostegno e amore.